Cari amanti di grafica benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop oggi anziché fare un tutorial su un nuovo strumento di Photoshop come sto facendo in queste settimane vorrei festeggiare i 2000 iscritti al canale quindi faremo esattamente 3 diversi effetti da applicare al testo oltre tutti quelli che già ho creato nel mio canale e vi invito ad andarli a vedere quindi applicheremo questi 3 effetti al nostro testo e il nostro testo sarà il numero 2000 iniziamo subito a capire che documento è quindi andiamo su file, nuovo e creiamo questo documento che io già ho creato ed è di larghezza 1080 pixel per altezza 1080 quindi un documento quadrato risoluzione 72 dpi quindi siamo a una risoluzione web metodo colore RGB a 8 bit è contenuto e lo sfondo come avete visto è nero io chiudo voi farete crea quindi abbiamo questa situazione andiamo subito a creare il nostro testo e scriviamo 2000 notiamo io già ho scelto il font lezzo è un font che potete scaricare tranquillamente nei google font metterò il link del download comunque potete scegliere un altro tipo di fonte l'importante è che sia un bel font a bastoni bello corposo nella variante extra bold ora andiamo a impostare un po' la dimensione è il colore che ho utilizzato il bianco quindi clic e scriviamo 2000 quindi selezioniamo il nostro testo e ingrandiamo a 345 posizioniamolo al centro ok e possiamo iniziare dal primo effetto il primo effetto è il più semplice in assoluto però molto spesso soprattutto perché alle prime armi non sa come si crea e dato che la scorsa volta abbiamo parlato dello strumento sfumatura calza proprio a pennello quindi facciamo l'effetto riflesso prendiamo il nostro 2000 il nostro livello di testo e lo duplichiamo ctrl più j o command più j adesso lo stesso livello che abbiamo duplicato lo dobbiamo riflettere quindi applichiamo il comando trasformazione libera ctrl più t o command più t se siamo in mac tasto destro rifletti verticale ora spostiamoci in basso magari tenendo premuto il tasto maiuscolo così non si disallinea e posizioniamoci anche con le frecce nella tastiera a una distanza abbastanza vicina confermiamo tasto invio e a questo punto dobbiamo semplicemente applicare una sfumatura a una maschera applicata al livello riflesso quindi clicca sulla terza icona e abbiamo creato la nostra maschera mettiamo colore in primo piano nero e colore di sfondo bianco basta cliccare appunto nel nostro selettore e scegliamo il nostro colore nero e così vale pure per il bianco ora andiamo ad applicare il nostro strumento sfumatura quindi sfumatura e così in automatica avremo una sfumatura che va dal nero colore primo piano al bianco colore di sfondo posizioniamoci in questo punto che è il punto da dove partirà la sfumatura quindi clicca trasciniamo la nostra asse verso l'alto con il tasto maiuscolo premuto più saliamo più sarà sfumato lasciamo andare ovviamente dobbiamo avere la nostra maschera sempre selezionata e questo è il risultato se l'avessi fatto più corto come vedete il risultato era questo avrei potuto poi abbassare l'opacità ma consiglio di cliccare qua e salire un po' di più in modo tale che già ha un'opacità ridotta se vogliamo ridurre maggiormente facciamo così ok primo effetto creato duplichiamo il nostro 2000 ctrl più j o command più j portiamolo sopra e tutto ciò che sta sotto lo mettiamo in una cartella quindi clicco su questo livello poi tasto ctrl premuto command in mac clicco su questo e li metto all'interno di una cartella di un gruppo clic e lo chiamiamo effetto riflesso adesso creiamo l'effetto glitch nascondiamo questa cartella ovviamente l'effetto glitch io già l'ho creato in un tutorial e vi invito ovviamente a vederlo per avere un effetto applicato all'immagine stavolta lo applichiamo al testo il che è più facile meno effetti meno passaggi quindi per prima cosa che dobbiamo fare dobbiamo unire i due livelli quello sopra con quello sotto ovviamente non li fonderemo direttamente qua ma faremo un nuovo livello che sarà la fusione di tutti quindi ctrl più alto e più maiuscolo più E o command più alto e più maiuscolo più E se siamo in Mac a questo punto clic due volte sul nostro livello 1 si apre il nostro stile livello e dobbiamo semplicemente arrivare la spunta dal canale red ok confermiamo tutto qui come vedete si è creata questa piccola iconcina se con lo strumento sposta adesso noi spostiamo sulla destra e sulla sinistra tenendo premuto sempre il tasto maiuscolo che ci permette di non perdere l'allineamento guardate che succede i colori classici dell'effetto glitch facciamo il nostro spostamento più o meno come preferite e a questo punto rifacciamo la stessa operazione creiamo un nuovo livello che è la fusione di tutti quindi ctrl più alto e più maiuscolo più E ecco questo ci permetterà di creare i vari disturbi quindi prendiamo lo strumento selezione rettangolare e iniziamo a creare i disturbi quindi selezioniamo un rettangolo che mi vada a prendere tutta la scritta in orizzontale poi strumento sposta e spostiamo ecco qua questo qua è l'effetto il disturbo perché l'effetto glitch non è altro che un disturbo e lo andiamo a creare in questo modo deselezioniamo ctrl più D o command più D e rifacciamo l'operazione più volte scusate una brevissima pausa vi vorrei ricordare che in descrizione c'è il link per acquistare il corso sul fotomontaggio con photoshop segreti e tecniche avanzate ve lo consiglio e anche in promo come vedete sto spostando sia da un lato che dall'altro per creare un disturbo più realistico ovviamente possiamo esagerare possiamo continuare a fare questa cosa come vedete l'effetto è abbastanza interessante possiamo addirittura fare un'altra selezione pure più grande dove spostiamo l'intero blocco perché tanto è sempre lo stesso livello l'unico livello quindi posso fare a questo punto pure così ctrl più D o command più D e come vedete possiamo continuare tra virgolette all'infinito ovviamente non esageriamo troppo se no poi l'effetto diventa eccessivo passiamo all'ultimo effetto quindi mettiamo tutti i livelli all'interno di un gruppo clic due volte effetto glitch saliamo sopra questo livello nascondiamo l'effetto glitch quindi abbiamo effetto riflesso effetto glitch e adesso creiamo l'effetto slice che l'abbiamo creato pure questo su un'immagine e lo creiamo adesso sul testo questo è pure molto semplice vediamo come fare facciamo un po' di zoom in e vediamo quindi ctrl più o command più prendiamo il nostro lazzo poligonale se non ce l'avete tenete premuto e lo selezionate il secondo poi puntiamo e è importante a questo punto non farlo dritto ma farlo in diagonale altrimenti conveniva lo strumento selezione rettangolare ok andiamo a chiudere e applichiamo una maschera a questa selezione quindi clic sulla terza icona si nasconderà ovviamente tutta la parte di sotto duplichiamo ctrl più j o command più j e invertiamo questa volta perché a noi interessa che si veda pure la parte di sotto quindi invertiamo la maschera quindi selezionando la maschera clic sulla maschera ctrl più i o command più i benissimo spostiamoci adesso sul livello testo poi mettiamo lo strumento sposta e spostiamo ok e a questo punto prendiamo la selezione di sopra teniamo premuto il tasto ctrl o command per mac come vedete spunta questo cursorino e clicchiamo all'interno della maschera in questo modo abbiamo selezionato questa maschera che mi permette di disegnare in questa zona non qui dentro quindi mettiamo il pennello con nero in primo piano opacità 60% durezza ora andiamo a vedere perché al momento non è selezionabile quindi creiamo un nuovo livello clic sulla penultima icona come vedete adesso è possibile andare a pennellare tasto destro e io ho messo durezza 0% dimensione 80 quindi diamo una pennellata tenendo premuto il tasto maiuscolo faccio clic in questo punto mi sposto nell'altro e faccio il secondo clic in questo modo abbiamo creato la nostra pennellata seguendo una linea esattamente dritta oppure possiamo pennellare così come preferiamo ctrl più d o command più d per deselezionare se l'effetto ci sembra troppo possiamo ovviamente ridurre l'opacità se vogliamo rendere lo stacco più visibile selezioniamo il livello di sotto che sarebbe la parte superiore del testo e la portiamo più in alto in modo tale che si vede meglio il taglio ok e anche per oggi abbiamo terminato se questo tutorial vi è piaciuto vi invito a mettere un like a seguire il mio canale e a commentare per rendere sempre più visibili i miei contenuti nell'algoritmo di youtube vi invito a seguire il mio blog www.salvatorepumo.it slash blog dove troverete tutti i tutorial di photoshop e non solo infine un grazie speciale a tutte quelle persone che continuano a seguirmi costantemente continuano a commentare i miei tutorial continuano a mandarmi messaggi piacevoli messaggi di incoraggiamento per far sì che il mio canale cresca sempre più grazie nuovamente per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao